ciao a tutti oggi vediamo una lente con molti ingrandimenti 10x tascabile con un astuccio comodo per essere portata in giro con la cerniera quindi non si rischia che esca e cada è una lente tascabile si apre e può essere utilizzata sia per gioielli pietre preziose francobolli monete qui ecco vediamo una spilla si riescono a vedere molto bene i particolari ecco ancora un particolare di questo gioiello qui ne vediamo un altro ora proviamo a vedere all'aperto dei fiori qui addirittura c'è un'ape appena posata su questo fiore dobbiamo cercare di trovare bene il fuoco avvicinandoci riusciamo a vedere il lavoro che sta facendo però poi è volata via questi invece sono i particolari di un girasole ora invece ci avviciniamo a una margherita e proviamo a vedere cosa si vede con 10 ingrandimenti se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al nostro canale youtube elettronica didattica e andate a visitare il nostro sito elettronica didattica punto com ciao a tutti